Festività di Sant'Antonio e la parrocchia di Sant'Agostino in Città Vecchia, proprio dove assede la confraternità, vuole ricordare i meriti di questo santo? In realtà quando noi festeggiamo un santo rendiamo prima di tutto grazie a Dio perché hai voluto concedere grazie a uno di noi e uno di noi si è conformato a Cristo, è diventato un altro Cristo, è un esempio vivente che ci stimola e che ci fa capire che la santità non è qualcosa di impossibile ma qualcosa di possibile anche noi possiamo imitando Cristo arrivare alla santità. La gente è molto devota e molto affezionata alla figura di Sant'Antonio. Effettivamente la gente è molto devota a questa figura. Un santo popolare, assai popolare. Perché Sant'Antonio è un santo taumaturgo, ha compiuto tanti miracoli e spesso quando i fedeli chiedono la sua intercessione subito la loro preghiera viene esaudita. Ecco perché Sant'Antonio è popolare. Ci dica qualcosa sui festeggiamenti per Sant'Antonio? Allora, nella nostra Arcidiocese di Taranto, Sant'Antonio è molto amato e per esempio questa sera a San Francesco di Geronimo, alla parrocchia San Francesco di Geronimo, c'è una grande festa, la processione nella città. In questa chiesa di Sant'Agostino, subito dopo la messa, faremo baciare ai fedeli le reliquie di questo santo.